ciao a tutti oggi preparo con voi le montanare o montanarini a seconda della grandezza e poiché la ricetta originale se la contendono in tanti a patto che ci sia io le faccio a modo mio iniziamo e allora per prima cosa mettiamo l'acqua a temperatura ambiente in un contenitore poi mettiamo il lievito di birra fresca e lo facciamo sciogliere una volta sciolto il lievito mettiamo la farina a questo punto mettiamo il sale zucchero mescoliamo un po bene e a questo punto direi che possiamo iniziare ad impassare con le mani bene dopo aver lavorato per circa 10 minuti l'impasto faccio una palla metto un filo d'olio copro e faccio rievitare per circa tre ore ad una temperatura non inferiore ai 22 gradi passate tre ore se ci avete più tempo ancora meglio vedete l'impasto stacchiamo dei pezzetti dall'impasto e formiamo delle palline di circa 40 50 grammi e le mettiamo su una teglia o in un contenitore apposito che come vedete ho spolverato con della semola perfetto una volta fatte tutte le facciamo lievitare per altre tre ore io per comodità le metto nel forno spento ma soltanto con la luce accesa per mantenere sempre una temperatura superiore ai 22 gradi dopo tre ore questo è il risultato guardate che belle bolle possiamo friggere olio di semi di arachidi ammaccchiamo così con le mani la pallina e la friggiamo ok appena si saranno dorate le giriamo e le facciamo cuocere un altro po' dovranno essere belle dorate anche sotto l'olio non deve essere caldissimo altrimenti si bruciano fuori e non cuociono dentro restano crude dentro quindi cercate di tenerlo sotto controllo sui 160 170 gradi direi che le posso togliere quindi prima le faccio sgocciolare con la schiumarola e poi le faccio sgocciolare ancora in un cola fritta oppure le appoggio su un piatto con della carta assorbente e vado avanti a friggere ecco qua mettiamole in un piatto sopra ci mettiamo un po di salsa di pomodoro che ho condito con olio sale basilico poi mettiamo un po di mozzarella tagliata a julienne molti ci mettono soltanto il formaggio quindi io su questa centrale ci metto soltanto il parmigiano o il pecorino a seconda dei gusti e per finire non può mancare un po di basilico guardate qua ovviamente assaggio con voi mamma mia io devo andare a mangiare calde sono buonissime fatene fatemi sapere che cosa ne pensate tramite i commenti qui sotto se il video vi è piaciuto mettete un like condividetelo se siete su youtube cliccate qui sotto per iscrivervi al canale o qui sopra su segui se siete su facebook io vi saluto e vi auguro buon appetito ciao Grazie.